A Milano, all'Aiute Sport, oggi è venuto a trovarci Andrea Galbiati, appena tornato da New York. Allora Andrea, tornato in Italia dalla Gleason Gym, il Tempio della Box ovviamente in America e tante novità dagli Stati Uniti. Recentemente hai sentito un match molto importante. Recentemente, metà giugno, ho fatto presenza al Campeonato del Mondo tra Cotto e Martinez al Madison Square Garden, vinto per K.O. D'Acotto. Poi ho assistito live al match di Prodovnikov contro Chris Algeri, vinto da Chris Algeri il pugile di Long Island New York. E adesso vado ad assistere altri due rappresentanti del mondo, il 26 luglio, sempre al Madison Square Garden, il Mondiale WBA, Super Middleweight, tra General Golokmin, l'Abzeko e l'inglese, De Gallo. E poi, l'agosto, prima settimana, ci sarà Peterson, Lamont Peterson con Edgar Santana e il Mondiale WBA dei Medi di Daniel Jacobs, sempre al Barclays Center di New York. Altissimi livelli, ovviamente in America il pugilato è a un livello altissimo. E quando assisti a questi match, ovviamente immagino che le emozioni siano veramente tante. Sì, diciamo che visti soprattutto quasi bordo ring come riesco fortunatamente ad assisterli io, è un'esperienza unica, credo, unica, unica, unica. Si conosce tanta gente e a livello tecnico si impara molto, ecco, quello che serve a me è imparare combinazioni o spostamenti sul ring, bellissimo. Ci ricordiamo che tu sei alla Gleason Gym di New York e spesso organizzi appunto per gli italiani che volessero venire ad allenarsi per fare una preparazione atletica e comunque conoscere la box americana che comunque è un modo diverso anche di presentare il pugilato. E sicuramente è una possibilità che tu dai a tutti. Sì, io insegno 4-5 palestre di New York perché mi sposto in base a dove ho i miei pugili professionisti e mi scrivono tante persone per venire a provare, a fare, a esperienza nuova e io lo consiglio a tutti perché a qualsiasi livello è sempre positivo. Poi New York è sempre una città affascinante. New York è sempre New York. La città più bella del mondo. Ricordiamo anche la grande novità dei guantoni Cleto Reyes adesso in Italia, anche qui all'Aiute Sport, che sono i guantoni dei grandi pugili, ovviamente il top al mondo. Siamo tra le due o tre marche più prestigiose nel mondo e più rinomate e più migliori, diciamo. Infatti i grandi pugili e tutti i pugili professionisti usano appunto la Cleto Reyes proprio per la grande qualità del materiale con cui si sono fatti i guantoni. Messicani, qualità incredibile, resistenza e bellezza anche a livello visivo. Adesso li troviamo qua in Italia alla Jute Sport di Milano, colori, once, lacci. E comunque solo calzarli è un'esperienza straordinaria. Il prezzo vale la qualità. Allora, grazie Andrea Galbiati. Forse te. Adesso una pausa estiva, dopodiché si riprenderà ovviamente con il pugilato da New York. Grazie Andrea. Grazie a voi.